Viva il lupo! Comincio! Allora, intanto in pochissime parole chi sono. Mi occupo da tanto tempo di formazione e ormai da tre anni gestisco l'academy e la community del Comin Center. Il Comin Center è un consorzio con l'Università della Basilicata e abbiamo due sedi, una nel campus di Matera e una nel campus di Potenza. Infatti siamo chiusi da un po' e il mio home working va avanti da tre settimane ormai. Di che cosa ci occupiamo? Abbiamo appunto un'academy e quindi offriamo non solo agli studenti universitari ma anche agli esterni, a tutti i membri della nostra community, dei corsi legati principalmente al digitale. Un Fab Lab gratuito per i nostri membri, quindi ci sono delle stampanti 3D a disposizione, prenotabili e chiunque può venire a utilizzarle e fare sperimentazione e in questi giorni so quanto è importante questa cosa. Sto leggendo e sono veramente orgogliosa anche di aver messo a disposizione, del fatto che il nostro centro ha messo a disposizione delle stampanti per gli studenti per potersi allenare perché non si sa mai quando arriva il futuro. A un certo punto arriva e bisogna essere pronti a fare qualcosa e in questo caso so che tantissimi Fab Lab in Italia stanno facendo delle cose meravigliose, lo dico con tanta emozione. E poi abbiamo un progetto speciale che si chiama Career Tools, quindi strumenti per la carriera che è diciamo lo spunto di oggi e il piccolo contributo che oggi io voglio dare a Rinascita Digitale e a questa idea che ha avuto Stefano e che ringrazio di nuovo. Che cos'è il Career Tools? Noi abbiamo normalmente un workshop di due giornate in cui si avvicinano vari formatori e all'obiettivo di fornire ai partecipanti a questo workshop strumenti e competenze per aiutarli nella ricerca del lavoro o per migliorare la propria carriera. Quindi sia per gli studenti dell'università ad esempio che per la prima volta si avvicinano al mondo del lavoro ma anche per chi dopo un po' di tempo magari vuole cambiare carriera, vuole cambiare lavoro e decide di rimettersi in pista. Il mio workshop parte da qui, dall'idea di una domanda che è da dove inizia una ricerca attiva del lavoro e per attiva ovviamente io intendo la capacità di mettersi in gioco in prima persona e di cercarsi delle opportunità. In questo momento ovviamente con il digitale stiamo facendo tutto, ci stiamo rendendo conto di quante opportunità il digitale ci offre e fino a un po' di tempo fa tutte le volte che io sono andata in aula ragionavo con gli studenti soprattutto giovanissimi, inesperti, impauriti anche da questa parola mondo del lavoro su che cosa fare, da dove cominciare. E la cosa che mi ha sempre incuriosito e che voglio condividere con voi è la domanda che gli studenti facevano a me, ma io non ho nessuna esperienza, che cosa scrivo nel mio curriculum? E dopo aver ricevuto per un po' di volte questa domanda io mi sono posta nella condizione di dover cercare una risposta o provare a cercare una risposta facendomi tantissime altre domande, io ovviamente, perché una domanda genera sempre mille altre domande e poi con calma forse arriva anche una risposta. E nel provare a dare una risposta agli studenti mi sono resa conto che per scrivere un buon curriculum vitae non è sufficiente la tecnica come in tante altre cose, le competenze tecniche non sono sufficienti, tante volte abbiamo sentito parlare di hard skills, soft skills e soprattutto una buona scrittura di un curriculum vitae passa per tante domande che uno fa se stesso. Spesso in aula mi sorridiamo sull'idea che sembri quasi una seduta di psicoterapia collettiva, io non sono una psicoterapeuta e quindi non voglio svolgere questo ruolo perché è un ruolo difficilissimo, però nel farsi tante domande per poter scrivere un buon curriculum vitae ovviamente ci si mette un po' in gioco, ci si mette in discussione, si ripercorrono in qualche modo le cose che si sono fatte negli anni e di cui spesso neanche ci si accorge. Quindi chi ha scritto un diario negli anni, un diario segreto è molto fortunato perché rileggendo quel diario potrà andare a recuperare tutte le esperienze che ha fatto, che ha vissuto, che ha cercato e che si è costruito. L'esempio più comune che io faccio è l'esperienza scout, chi ha fatto lo scout ha un bagaglio di soft skills enorme che spesso non considera neanche di avere. Chi fa parte di un'associazione ad esempio ha costruito un bagaglio di esperienze che è un bagaglio importante da raccontare nel proprio curriculum vitae. E quindi le domande da cui si parte un po' sono queste e io ho provato a metterle insieme perché vedo che siete 400, più di 400, quindi non so tra di voi se c'è chi sta cercando lavoro, c'è chi un lavoro già ce l'ha ma vuole cambiare carriera, chi in questo momento di grande crisi è pronto a cercarsi una grande opportunità, che potrebbe essere l'idea di cambiare lavoro perché si è reso conto che le proprie priorità, i propri valori sono diversi rispetto a quelli con cui si stava incontrando in tutte queste giornate. E quindi le domande sono, ah sei soddisfatto o soddisfatta ovviamente del tuo attuale lavoro? Questa è una delle domande che io mi farei e in questo momento in cui abbiamo tempo per pensare, credo che sia una domanda importante. E la seconda domanda è se il nostro attuale lavoro ci dà valore, ci valorizza, mette a frutto tutte quelle che sono le nostre competenze, le nostre idee, competenze tecniche e non, ma anche il nostro modo di essere. Passiamo tantissimo tempo al lavoro, passiamo 40 ore in media della nostra settimana per chi fa un lavoro da dipendente, chi invece fa un lavoro, diciamo è un imprenditore, è un freelance, sicuramente le ore che passa al lavoro sono molti di più, ma spesso anche le ore del tempo libero in cui la nostra mente va alle cose di lavoro, all'idea, alla progettualità, anche lì quello è il tempo che noi dedichiamo. Da questo deriva un po' questa terza domanda che vedete, se i soldi non fossero una barriera che cosa faresti? Provando per un momento a immaginare che i soldi non sono la priorità o che io ho l'opportunità di mettermi in gioco completamente, che cosa farei per essere veramente felice di quello che faccio legato al mondo del lavoro, ovviamente, alla vita professionale e non personale in questo caso. La penultima domanda che è legata ovviamente poi all'ultima è quali sono le nostre priorità, quali sono i nostri valori, cioè cos'è che banalmente, una frase che avete sentito dire tante volte, qual è la molla che vi spinge tutte le mattine ad alzarvi? Io devo confessare che da quando ho iniziato la mia quarantena, una cosa che mi tiene attiva e mi dà voglia di alzarmi tutte le mattine è fare un po' di meditazione, concentrarmi, tenere il focus attivo su quello che faccio, su quello che mi piace, su quello che mi motiva e poi, diciamo, questo mi aiuta tantissimo a tenermi concentrata durante una lunga giornata, senza farmi sopraffare dalle notizie. Quindi provate a rispondere a queste domande, ovviamente non vi chiedo di farlo adesso, tanto so che poi tutto il materiale sarà online sul canale YouTube di Rinascita Digitale, quindi, diciamo, avrete tempo di riflettere e trovare una risposta a queste domande. Un altro esercizio che credo sia importantissimo per prepararsi alla scrittura del curriculum vita è questo, ovvero la ruota della vita. Io ve l'ho messo qui, lo trovate online, se scrivete ruota della vita su Google lo trovate, questo è un esempio. Vedete che è appunto un grande cerchio fatto a spicchi, ci sono tantissimi parametri, tantissimi punti di vista dai quali noi possiamo osservarli nella nostra vita oggi e il primo che vedete in alto è fisico, salute e vitalità, emozioni, spiritualità, quindi missione personale e contributo al mondo, finanza, lavoro e carriera, vita sociale, famiglia, svago, crescita personale, che è quello che stiamo provando a fare tutti insieme in questi giorni, ambiente, beni materiali ed emozioni. Come funziona questo esercizio? È molto semplice, vi prendete un po' di tempo, riflettete su ognuno di questi spicchi e colorate dal centro fino a tutta la parte esterna. Ovviamente potete scegliere diversi colori, dal punto di vista creativo sentitevi liberi di esprimervi e la cosa importante è capire, questo ci aiuta diciamo ad avere una visione, a visualizzare tutte le componenti della nostra vita quanto sono espresse oggi. Quindi questo ci aiuta a capire, ad esempio, se io nel mio lavoro, nella mia carriera, riesco a colorare quasi fino alla parte più larga, partendo dal centro, vuol dire che sono soddisfatto di quell'aspetto della mia vita. Se ad esempio lo svago riesco a colorare solo i primi tre verso il centro, vuol dire che non riesco oggi a dedicare abbastanza tempo al divertimento, allo svago e al relax. Questo lo potete fare ovviamente per tutti questi spicchi di questa torta immaginaria e vedendo la situazione attuale, questo vi aiuta anche a capire come poter lavorare sul desiderato. Perché poi la cosa importante è questa, io oggi magari mi rendo conto di non avere abbastanza tempo da dedicare alla famiglia, però ritengo che sia uno dei valori, rispondendo anche alla domanda che vi ho fatto prima, quali sono i miei valori, se per me la famiglia è un valore importante al quale ritengo di dover dedicare più tempo, probabilmente devo riorganizzare un po' la mia ruota della vita. Ovviamente dopo se ci sono domande su questo, io sono a disposizione. Vado avanti. Sempre per prepararci alla scrittura del curriculum, sempre per questa ipotentica seduta di psicoterapia collettiva che per la prima volta faccio con 418 persone che mi seguono, vi faccio vedere quest'altro esercizio, sempre preparatorio alla scrittura del curriculum. E metto insieme questi tre ambiti che sono gli interessi personali, le mie abilità e la mia personalità. E provo a tracciare e a far intersecare tutti questi elementi tra di loro. È ovvio che in un mondo perfetto, ipotetico e immaginario, tutti questi elementi tra di loro si intersecano e io riesco ad esprimere i miei interessi, le mie abilità e la mia personalità non solo nella vita personale ma anche nella vita professionale. Qual è il problema? Il problema è che spesso noi non riusciamo a far intersecare nessuna di queste tre cose nemmeno nella vita personale. E quindi proviamo in questo momento a scrivere tutte queste cose, visualizzarle e riconsiderarle. Quali sono i miei interessi? Ovvero quali sono le cose che mi entusiasmano? Può essere la musica, può essere un hobby, può essere, non so, disegnare, dipingere, fare giardinaggio. Quali sono le mie abilità? Ovvero i talenti acquisiti e naturali. Se parliamo di talento ci tengo a specificare che i talenti non sono quelli solo naturali. Uno può saper disegnare, essere portato per il disegno, avere un talento naturale per il disegno ma è ovvio che per fare di quella persona un illustratore, un grafico, un professionista ci vuole esercizio, ci vogliono competenze tecniche che poi si acquisiscono e il talento non è sufficiente. Personalità. Ho provato a declinare la parola personalità in come ti piace lavorare e come ti relazioni con gli altri. Questo è un altro elemento che spesso sottovalutiamo e invece quando iniziamo una ricerca di lavoro o quando scegliamo di cambiare carriera possiamo provare a tenere questo in considerazione. Spesso quando iniziamo una ricerca di lavoro perché siamo ad esempio neolaureati o per la prima volta cerchiamo lavoro su questo non ci concentriamo più di tanto. Sull'aspetto della personalità e del come ci piace fare le cose non ci concentriamo perché siamo spesso portati ovviamente intanto a trovare il nostro primo lavoro e poi si vedrà, intanto comincio. Invece chi si trova dopo un po' di anni che magari lavora nella stessa azienda o ricopre lo stesso ruolo da tanto tempo questa domanda diventa forse una delle domande focus perché evidentemente nell'ambiente in cui si sta non si è contenti, non si è soddisfatti. Oggi si parla tantissimo di lavoro agile, di lavoro flessibile, di relazioni più aperte con il proprio datore di lavoro e io insomma purtroppo mi rendo conto che non è spesso così e che questa è una delle motivazioni principali che porta le persone a scegliere di cambiare la direzione della propria carriera. Fatti questi tre esercizi, quindi dopo aver risposto alle cinque domande dopo aver colorato la propria ruota della vita ed essersi un po' messi in discussione ma non vuol dire mettere in discussione se stessi per forza spesso si può anche semplicemente ragionare su quello che si è e su quello che si ha in un determinato momento della propria vita professionale e scegliere eventualmente di cambiare direzione. Dopo aver lavorato sulle tre intersezioni legate a interessi, abilità e personalità possiamo considerare di essere pronti a riscrivere il nostro curriculum vitae. Come vi dicevo prima, chi ha un diario con sé è molto fortunato oggi i social ci aiutano tantissimo perché abbiamo pubblicato talmente tante cose sui nostri canali Instagram sul nostro Facebook che possiamo andare a recuperare e per esempio a me è stato tantissimo utile YouTube perché con un amico in comune che abbiamo con Stefano che è Bito Verrastro, abbiamo fatto una cosa appena io ero tornata a vivere a Matera e l'avevo quasi dimenticata e a un certo punto mentre sistemavo il mio profilo LinkedIn sono andata a googlare il mio nome, Stefania Clemente e ho ritrovato quel video e infatti adesso quel video è presente nella mia pagina LinkedIn questo per dirvi che fate uno sforzo di memoria raccogliete tutte le informazioni che avete potete ad esempio fare una lista e l'ordine che decidete di dare a tutte queste informazioni è assolutamente personale in questa fase potete farlo come cronologia quindi dall'esperienza professionale più datata a quella più recente o da quella che ritenete più importante a quella meno importante oppure dalla quale avete imparato di più per andare piano piano scemando fino a quella che avete imparato di meno ma questo è ovviamente impossibile perché da tutte le esperienze impariamo qualcosa e una volta che avete questa mappatura con voi io quello che consiglio è di farla cartacea perché nel raccogliere tutte queste informazioni in maniera cartacea riusciamo ad avere proprio la visione completa del nostro percorso professionale a questo punto siamo pronti in questo caso faccio con voi un lavoro all'inverso siccome non abbiamo tempo di scrivere insieme a tutti e 400 i vostri curriculum vitae e io non vi conosco non so chi siete allora faccio un lavoro al contrario io per i miei studenti diciamo per chi partecipa al career plus ho preparato una cd checklist la voglio analizzare con voi in modo tale da darvi diciamo tutte le informazioni che sono necessarie in un curriculum vitae e voi poi potrete fare il lavoro al contrario quindi andando a prendere il vostro curriculum vitae verificando di aver inserito tutte queste informazioni e poi eventualmente riscriverlo partiamo dalle informazioni di base ovvero l'anagrafica ovviamente nome e cognome sono in alto e in evidenza vi assicuro di aver visto tantissimi curriculum in cui non si riesce a capire nemmeno il nome e il cognome della persona che l'ha scritto i contatti sono effettivamente giusti cioè io a quei contatti sono reperibile se ho inserito un numero di telefono o un indirizzo o un indirizzo email a quell'indirizzo email io rispondo a quel numero di telefono io rispondo a quell'indirizzo di casa eventualmente ricevo una comunicazione via posta personalizzo la urla dei miei canali online ad esempio del mio linkedin perché faccio questa cosa? uno per rendere la urla più leggibile due perché questo mi consente di monitorare il numero di click che la mia urla riceve provate a immaginare di mettervi lì per una settimana concentrarvi sul vostro curriculum vita e inviare decine e decine di candidature per offerte di lavoro diciamo siete nella fase più attiva della vostra ricerca di lavoro parentesi il consiglio che vi do è costruitevi un fantastico file excel in cui andrete a riportare tutti i riferimenti delle candidature che avete fatto altrimenti qualcuno vi risponderà mi auguro per voi e voi non vi ricorderete nemmeno di esservi candidati a quell'offerta di lavoro nel frattempo la mia urla dei miei canali personalizzati quindi diciamo del mio profilo linkedin viene cliccata sì no da chi da dove quante volte è stata cliccata quanti click unici ci sono grazie a un sito come Reblendly ma ce ne sono altri Bitly cercate qualsiasi altro canale che vi permette di accorciare personalizzare la vostra urla il servizio è gratuito ed è più o meno simile per tutti e le informazioni che vi da sono quelle che vi dicevo e quindi intanto personalizzato la mia anagrafica cosa manca? manca una fotografia che vi ricordo non deve essere la vostra fotografia al mare nemmeno con un mojito tra le mani neanche in una posa tipo questa ma magari una foto un po' più seria professionale in cui vi siete preparati truccati se siete delle donne fatte la barba se siete degli uomini siete più o meno in ordine presentabili e gradevoli e semplicemente con un bel sorriso che sia diciamo il vostro biglietto da visita non vi conosciamo non sappiamo chi siete però una bella foto sorridente sicuramente aiuta a creare subito un'empatia con la persona di cui sto leggendo ovviamente poi andiamo nelle informazioni tecniche istruzione e formazione inserisco il mio titolo di studio le materie eventualmente la votazione e inserisco anche i corsi di aggiornamento i corsi di perfezionamento e le certificazioni che ho ottenuto per quanto in questo momento una grande importanza venga data alle soft skills vi ricordo che saper fare è tanto importante quanto saper essere è chiaro che in un contesto professionale la persona che sono quindi vi ricordate l'intersezione che abbiamo visto due slide fa la mia personalità è importante ma anche le mie competenze tecniche sono importanti e devo essere in grado di saperle raccontare di saperle mettere in evidenza e poi appunto competenze ed esperienza andrò a segnalare il nome dell'azienda per cui ho lavorato la posizione che ho ricoperto e il periodo in cui ho lavorato per quell'azienda e ho utilizzato tutte le parole chiave attinenti alla posizione per la quale mi candido nella descrizione della posizione ricoperta ovviamente ci deve essere un'attinenza con la posizione per la quale mi candido utilizzo un linguaggio tecnico e professionale per mettere in evidenza le capacità che ho in quel determinato ruolo professionale ovviamente inserisco anche le esperienze non retribuite purché pertinenti alla posizione per la quale mi candido questa è la domanda del secolo tutti mi chiedono ma io quella volta quella cosa lì l'ho fatta come volontario benissimo cioè le esperienze che uno fa non sono per forza esperienze retribuite non sto parlando di lavorare in nero sto parlando di volontariato ad esempio aver curato la comunicazione online dell'associazione di quartiere dell'associazione parrocchiale dell'associazione ambientalisti della mia città l'ho fatto come volontario perché ci tenevo a sostenere quella causa ma in quell'occasione io sicuramente ho imparato delle cose e quindi anche se non è stata un'esperienza professionale retribuita contrattualizzata è un'esperienza dalla quale io sicuramente ho imparato a fare delle cose ed è bene quindi che io la inserisca e che metta in evidenza tutto quello che ho imparato a fare in quel contesto inserisco dei particolari obiettivi o dei particolari successi che ho raggiunto e diciamo fornire a chi legge il mio curriculum delle informazioni così specifiche aiuta a comprendere quanto valore io riesco a portare all'azienda o se sono stato un freelance quanto valore il mio lavoro scusate il gioco di parole contribuisce a creare in questo mi aiutano tantissimo le statistiche i numeri perché mi aiutano a descrivere appunto gli obiettivi e i successi che ho raggiunto ad esempio se io con i career tools in un anno ho formato 100 studenti dell'unibus e di quei 100 studenti l'80% nell'arco di 6 mesi è riuscito a trovare lavoro questo è un particolare successo raggiunto e quindi è bene che io lo metta in evidenza nel mio curriculum o nel mio portfolio o nel mio profilo di chiudere cos'altro posso inserire progetti pubblicazioni riconoscimenti gruppi di volontariato associazioni di cui faccio parte questo contribuisce a raccontare di me particolari interessi e hobby se sono attinenti onestamente non se ne può più di leggere di tutti quelli che fanno hanno fatto pallavolo chitarra pianoforte ok siamo in tanti io no perché non sono mai riuscita neanche a leggere le note sullo spartito musicale ma diciamo non è particolarmente attinente con il mio lavoro diverso è se io per esempio faccio meditazione faccio yoga e questo mi aiuta a essere una persona equilibrata a essere una persona solare a essere una persona propositiva questo può essere inserito perché mette in evidenza delle cose di me che possono essere utili nel contesto professionale e relazionale con i miei colleghi con il mio datore di lavoro o con chiunque o con i clienti ovviamente se parlo delle lingue se conosco delle lingue le andrò a inserire in linea con il quadro comune europeo quindi mi riferisco ai riferimenti che si fanno livello B1 B2 perché questo? perché nel quadro comune europeo inserire lingua inglese scritto e parlato livello B1 dà già a chi legge la dimensione cioè la qualità di come quella lingua è conosciuta io so che tutti quanti barano un po' su questo provate a essere sinceri perché tanto poi al primo colloquio vi sgamano quindi rischiate di fare una brutta figura ovviamente devo specificare l'autorizzazione al trattamento dei dati oggi c'è il GDPR trovate diciamo online la la dicitura da inserire ovviamente se vi state candidando all'estero non solo il vostro curriculum dovrà essere in inglese ma anche la specifica dell'autorizzazione al trattamento dei dati sul sito del Comin Center sul blog del Comin Center trovate un articolo in particolare su come fare riferimento all'autorizzazione al trattamento dei dati nei curriculum quindi se vi va potete andare a leggerlo lì vado verso la conclusione verifico che non ci siano errori di battitura errori grammaticali e refusi vi prego non ci fate leggere le A senza H o con l'H al contrario dove non va verifico di aver scritto il mio curriculum in prima persona singolare sto parlando di me stesso quindi non parlo di Stefania chiaramente in terza persona ma parlo di Stefania Clemente in prima persona tutti i verbi usati sono all'attivo è una questione linguistica ragazzi la lingua è espressione e quindi ci aiuta con un verbo usato all'attivo a far passare il messaggio di maggiore propositività da un punto di vista grafico utilizzo al massimo due font ad esempio per i titoli e per il testo calibro bene i grassetti corsivi la dimensione del testo deve essere leggibile curo l'impaginazione e verifico che il mio curriculum non superi due facciate altrimenti rischiamo di diventare illegibili ho ricevuto curriculum di 10-15 pagine mai lette ovviamente verifico che la mia presenza sui social sia a prova di recruiter che cosa vuol dire che su facebook l'ultima foto che ho messo non è quella col mojito in spiaggia ovviamente dichiaro laddove è necessario se sono disponibili a viaggi trasferte o relocation e se sono in possesso di una patente di guida qualora serva venga richiesto però voglio dire questa è un'informazione che non lede la nostra privacy quindi in qualsiasi caso io consiglio sempre di inserirla le ultime domande che mi faccio prima di inviare questo curriculum mi chiedo se il mio curriculum è coerente con l'immagine di me che io voglio trasmettere se sono sicuro o sicura di aver scritto tutto quello che può mettermi in luce nel momento in cui quel curriculum verrà letto converto il mio curriculum in formato pdf non mandate curriculum in formato word possibilmente nomino il file nome e cognome job title della candidatura e l'anno google il mio nome e cognome per verificare quali risultati troverà il mio recruiter verifico qual è il canale attraverso cui mandare il mio curriculum per email tramite linkedin piuttosto che con un forum online ci sono tantissime opzioni ovviamente verifico qual è quella corretta e mi candido e poi vi ricordo sempre del famoso file excel in cui vi scrivete a chi avete mandato il vostro curriculum quando l'avete mandato la persona di riferimento e diciamo tenete monitorate tutte queste informazioni vado alla conclusione e poi sono disponibile per domande no al curriculum europass per tre ragioni la prima è che è troppo lungo la seconda è che appiattisce le vostre competenze e la terza o l'ultima non permette di distinguervi quindi fate uno sforzo grafico cercate online ci sono tantissimi siti uno su tutti canva.com che vi aiuta a rendere il vostro curriculum graficamente visivamente gradevole 30 secondi riuscite a farvi leggere in così poco tempo sappiate che questi circa sono il numero diciamo di secondi che un recruiter spende a dare la prima occhiata al vostro curriculum se già entro quei primi 30 secondi non vi ritiene diciamo in linea con la posizione aperta purtroppo non ci saranno chance per noi vi ricordo che non esiste una sola opportunità e che il curriculum è una parte di questa ricerca e che trovare lavoro richiede una strategia richiede tempo soprattutto se stiamo cercando un lavoro in linea con quello che siamo possiamo fare i camerieri può essere quella la nostra vocazione e quello il nostro mestiere oppure possiamo fare i camerieri per guadagnare qualcosa durante una stagione estiva non quella di quest'anno purtroppo ma ci sono diversi motivi per cui facciamo un lavoro ci sono dei lavori che ci portano a guadagnare ci sono dei lavori che ci portano non solo a guadagnare il nostro stipendio ma anche ad accrescere quello che siamo la nostra persona e la nostra personalità e in base al tipo di lavoro che stiamo cercando in un determinato momento della nostra vita io ci tengo a specificare questa cosa perché io ho fatto il mio primo lavoro è stato fare la barista a 15 anni spesso con i turni di notte certo non era quello il lavoro della mia vita però fare la cameriera la barista a 15 anni mi ha sicuramente permesso di imparare delle cose di imparare a saper dire di no per esempio di imparare a difendere la mia posizione quando è necessario imparare ad essere sorridente accogliente anche a luna di notte quando sei stanca il tuo turno è durato già troppo e quindi ci sono vari tipi di lavori che facciamo in determinati momenti della nostra vita sicuramente cercare il lavoro che ci appaga che ci soddisfa non è facile però un buon curriculum vitae una buona lettera di presentazione e soprattutto una buona ricerca ci possono aiutare concludo con ricordarvi di osare di non pensare di non poter fare la differenza se riusciamo a trasformare la nostra visione la nostra idea in una missione questo ci potrà aiutare a essere delle persone professionalmente felici appagate e soddisfatte io con questo mi fermo qui sono disponibile per delle domande lascio come ultima slide diciamo questa dove c'è il mio riferimento della mia email e del sito del del coming center quindi potete sia andare a cercare ulteriori informazioni sul nostro sito sia scrivermi direttamente ma credo che abbiamo ancora un quarto d'ora circa e mi fa piacere visto che la scrittura del curriculum vita è una cosa così personale io ho provato diciamo a dare una serie di informazioni generiche generali e adesso se qualcuno ha delle domande io sono volentieri disposta a rispondere grazie a tutti ciao Stefania sono Michele Michele eccoci la voce fuori campo sempre presente abbiamo qualche minuto in più rispetto al previsto circa 25 perché dalla fine di settimana sforza abbiamo deciso di andare non stop tra uno speaker e l'altro questo significa che ogni speech inizia alle 12 precise finisce alle 13 inizia alle 13 finisce alle 14 per cui abbiamo 25 minuti per rispondere alle domande del pubblico se ce ne sono volentieri Giulia dice nel corso della carriera lavorativa ho fatto tanti lavori diversi alcuni lavoretti ma che comunque mi hanno dato delle capacità specifiche tecniche dovrei inserirli comunque nel mio cv per riuscire a farlo di una pagina sola tendo sempre a mettere solo le ultime due esperienze che sono le più rilevanti ma in questo modo non vengono messe in risalto tutte le altre mie competenze come faccio ok allora Giulia una informazione importante è questa ad ogni posizione aperta corrisponde un curriculum che cosa vuol dire che ognuno di noi non scrive un solo curriculum quello è e quello resta ma se io mi sto candidando a tre offerte di lavoro il mio curriculum in qualche modo lo dovrò non dico modificare completamente ma un pochino adattare a quella specifica offerta di lavoro per la quale mi sto candidando che cosa significa questo considerando magari i tanti lavoretti perché dalla domanda che faceva Michele se non ho capito male ci sono nella tua carriera professionale i lavoranti magari non ho necessità di inserirli come esperienza professionale in cui ad esempio guarda torno ecco qui inserisco il nome dell'azienda la posizione il periodo in cui ho lavorato magari non mi serve inserire tutto il dettaglio ma mi basta fare riferimento a una serie di esperienze professionali che in qualche modo sono accomunate o dal tipo di lavoro che ho fatto o dal tipo di esperienza che dal tipo di competenze che ho acquisito le metto insieme e le sintetizzo poi è chiaro e questo non ha a che fare con una questione temporale ma di rilevanza rispetto alla posizione per la quale mi sto candidando certo è che le professioni e le esperienze professionali più rilevanti corrispondenti all'offerta di lavoro per la quale ti stai candidando quelle dovranno sicuramente essere più dettagliate e ripeto indipendentemente dalla dalla scansione temporale è ovvio che non metto siamo nel 2020 non metto come ultima esperienza professionale una del 2014 ma lasciando un buco di sei anni fino a oggi questo sicuramente no però diciamo ragiono anche per rilevanza e non solo per scansione temporale spero di aver risposto perfetto Alice invece chiede la firma alla fine del CV è necessaria? sì perché io posso mettere ad esempio l'autorizzazione al trattamento dei dati la posso mettere come un'unica riga anche scritta in molto piccolo per una questione di spazio l'importante è che ci sia quindi vado con l'ultima riga proprio in fondo quasi a filo del mio foglio immaginario A4 diciamo metto la dicitura dell'autorizzazione al trattamento dei dati e metto la firma sì è importante mi segnalano anche che è obbligatorio per cui se non sbaglio sì sì esatto per cui diciamo che sì è assolutamente importante Angelo chiede CV e coerenza con LinkedIn l'approccio del CV per un over 50 cambia ed eventualmente in che modo? allora ripetimi scusami che sono due domande in una Michele la prima è la coerenza che ci deve essere tra il CV e le esperienze indicate su LinkedIn e se l'approccio per un over 50 deve cambiare l'approccio nello scrivere un CV e nello scrivere su LinkedIn per cambiare e eventualmente in che modo? allora diciamo corrispondenza tra curriculum e profilo LinkedIn direi che è fondamentale perché proviamoci a mettere nei panni del recruiter dall'altra parte se legge su curriculum vita delle cose non corrispondenti a quelle che ci sono sul mio profilo LinkedIn la domanda spontanea è è la stessa persona sono sicura di stare guardando il profilo LinkedIn della stessa persona di cui sto leggendo il curriculum quindi sicuramente una corrispondenza ci deve essere e diciamo la questione età la possiamo interpretare semplicemente da un punto di vista grafico ma questo non ha a che fare solo con una questione di età spesso mi capita ad esempio neolaureati in ingegneria e il mio laureato in comunicazione grafica che mi dice Stefania sì ma io sono un ingegnere come faccio a fare un curriculum graficamente gradevole ma che non sembri il curriculum di un grafico beh la grafica ha tantissime sfaccettature ed è ovvio che i colori che utilizzo le forme i font tutto questo mi aiuta anche a far corrispondere il mio curriculum sia alla mia professione ma anche alla mia età diciamo però onestamente non credo che l'età sia una discriminante da questo punto di vista mi auguro che non lo sia in generale ma in particolare da questo punto di vista non credo ci siano grandi differenze secondo me molto di più dipende dal tipo di professione sicuramente un ingegnere così come un grafico diciamo con un'età una grafica di 50 anni dovrà puntare molto di più sulle esperienze sugli obiettivi sui risultati raggiunti rispetto a un neolaureato che probabilmente dovrà puntare molto di più sulla freschezza della sua formazione piuttosto che su diciamo altre esperienze che ha fatto con una età magari così giovane spero di anche in questo caso di aver risposto Maurizio invece chiede buongiorno Stefania perché per te sono così importanti ora come ora le soft skills puoi darmi un esempio reale sì allora per me nel senso per me sono importanti tanto quanto le competenze tecniche diciamo leggendo un po' online chi si occupa di selezione e recruiting del personale si dà molta importanza alle competenze trasversali che sono quelle legate alla capacità di relazionarsi con gli altri alla tutto sì alla relazione ma io onestamente non sono così come posso dire cioè non è esclusiva questa cosa per me anzi io credo che le competenze tecniche siano importanti tanto quanto le le soft skills credo che siano veramente allo stesso livello di importanza ora oggi si sente tanto parlare di competenze relazionali di capacità di relazionarsi con i colleghi di capacità di relazionarsi con i clienti ma secondo me questo non ha esclusivamente a che fare con le competenze quelle che vengono chiamate soft skills o competenze trasversali credo che siano diciamo competenze tecniche competenze trasversali credo che funzionino laddove siano ben integrate tra di loro perché io posso avere un dipendente da un punto di vista tecnico iper competente ma con scarsissime capacità relazionali empatiche di saper stare nel contesto professionale del team ma dall'altro lato posso avere una persona capacissima a stare nel contesto relazionale del team ma con scarsissime competenze tecniche rispetto alla posizione lavorativa che va a ricoprire quindi secondo me non c'è diciamo sulla bilancia non pesa più non pesano più le competenze tecniche o quelle trasversali soft skills secondo me siamo assolutamente ad un peso che si equivale perfetto maria chiede qual è il sito migliore per trovare modelli grafici di cv allora quello che ho citato prima che è canva.com ci aiuta tantissimo perché non solo ci dà gli esempi di modelli di curriculum bit diciamo grafico non europass quindi il modello diciamo basato su una due pagine al massimo ma in più canva.com è un sito gratuito in cui sul quale ci si registra appunto gratuitamente ci permette anche di utilizzare quei modelli e diciamo adattarli con i nostri contenuti la cosa diciamo è un po' for damage diciamo per chi veramente ha pochissime capacità di grafica e appunto zero competenze tecniche nella grafica che però con un pochino di sforzo e un pochino di tentativi vuole provare a fare un curriculum graficamente gradevole e diciamo canva.com ci aiuta tantissimo perché ci permette semplicemente di cambiare i contenuti inserire quelli personali è molto facile cambiare i colori cambiare i font quindi diciamo è molto facile da usare e ci sono già tantissimi esempi ovvio non fate affidamento sui contenuti perché quali sono dei contenuti di esempio sfruttatelo dal punto di vista appunto grafico per chi non è capace di utilizzare diciamo software grafici più noti più conosciuti ecco si canva offre la possibilità di sfruttare dei template già fatti per cui avere già una composizione di font di immagini di grafiche di elementi grafici già precompilati prefatti e poi dopo ovviamente uno fa copia in colla dei propri contenuti personali per cui nome cognome esperienze lavorative e così via per avere poi il proprio cv fatto nel giro di un'ora è un cv che sembra fatto da un grafico è molto comodo ed è gratuito le uniche cose che sono a pagamento sono magari alcuni elementi grafici che per poterli utilizzare bisogna andare ad acquistarli però nel momento in cui non si utilizzano quegli elementi grafici lì è tutto quanto gratis ed è fantastico sia per la realizzazione di cv che per altri elementi grafici quali possono essere immagini presentazioni o quello che è per cui se qualcuno di voi può essere utile anche per gestione di una pagina social o qualsiasi cosa su Canva ci sono tutti i template già fatti mi faccio il mio esempio io non sono un grafico e veramente le mie capacità di grafica sono scarsissime però occupandomi ad esempio dei social del coming center diciamo ma anche del mio personale spessissimo utilizzo Canva per creare delle piccole grafiche veramente semplicissime che non possono mai competere con quelle di un grafico professionista però perlomeno sono gradevoli da vedere rispetto a farlo su un classico Word diciamo lì ho già anche il formato già pronto quindi è veramente di grande aiuto appunto come diceva Michele non solo per la scrittura la preparazione del curriculum ma anche per tanti altri spunti ed elementi grafici che ci possono essere utili diciamo Andrea chiede ciao Stefania come si chiama come si chiama il sito che ci permette di verificare la forma del CV non l'ho segnato ti ringrazio molto non so cosa intenda la forma del oddio non lo so se magari Andrea ci aiuti un attimo a riscrivere la domanda volentieri perché io i siti che ho citato sono appunto canva.com per la grafica rebrandly o bitly per personalizzare la urla diciamo il link dei nostri profili social quindi link di un altro che vogliamo inserire nel curriculum e la forma forse se ho fatto riferimento alla forma forse intendivo diciamo il formato a 4 della pagina può essere questo se no aiutaci magari con la domanda e magari riesco a essere più precisi vediamo se si scrive nuovamente magari gli hai già risposto parlando di canva per cui ok ok perfetto Sabina chiede come si scrive una lettera di presentazione hai qualche tip qualche informazione che dobbiamo assolutamente inserire e qualche qualche così grazie per la domanda Sabina perché io non ho fatto nessun riferimento in questa piccola presentazione che ho preparato perché temevo di non avere sufficiente tempo per parlare anche di questo allora sicuramente diciamo la lettera di accompagnamento o la lettera di presentazione o motivazionale viene chiamata in tanti modi secondo me è molto importante non voglio dire necessaria perché in alcuni casi viene proprio richiesta nell'offerta di lavoro viene richiesto non solo il curriculum ma anche una lettera di presentazione secondo me anche laddove non dovesse essere richiesta è importante inserirla perché avendo diciamo uno spazio limitato per il CV e dovendo dare nel curriculum delle informazioni precise come facevo prima riferimento agli obiettivi raggiunti delle statistiche quindi informazioni molto specifiche secondo me nella lettera motivazionale che anche in questo caso è una pagina diciamo consideriamo sempre col formato A4 circa una pagina ma anche un pochino meno è importante allegarla diciamo corredare il curriculum di una lettera di presentazione che cosa posso inserire intanto la lettera di presentazione avendo la possibilità di essere più narrativa ci permette di esprimere un po' di più quello che siamo se faccio un passo indietro qui alla slide quella legata alla personalità e ai talenti mi permette di esprimere in maniera un po' più discursiva un po' più narrativa questi elementi lasciatemi passare il termine mi permette di fare un po' di storytelling di me stesso un po' di personal branding io non ho fatto riferimento a questi termini durante la presentazione perché veramente andavamo poi in tanti altri diciamo elementi però sicuramente una buona lettera di presentazione intanto è indirizzata a qualcuno quindi le tips sono cercate chi è il recruiter e provate a indirizzarla diciamo gentile o dear in inglese col nome della persona alla quale state parlando e raccontate un po' chi siete provate a immaginare una vostra piccola biografia in cui vi raccontate in maniera un po' più diretta informale e personale e quindi in cui vengono fuori di voi delle cose che nel curriculum magari non siete riusciti a inserire o sono difficili da inserire proprio per una questione organizzativa dello spazio organizzativa dei contenuti di selezione dei contenuti ma soprattutto da un punto di vista proprio di racconto di di quello che siete se hai qualche altra specifica domanda fammela pure o eventualmente poi se vuoi scrivimi via mail anche su questo adesso sto rigendo le altre domande Yuri ci chiede salve come si può attirare l'attenzione di un recruiter ok allora secondo me è una domanda da un milione di dollari onestamente come si può attirare l'attenzione di un recruiter io diciamo quello che tengo come riferimento è il fatto che un recruiter per quella posizione lavorativa cioè solitamente un recruiter intanto non lavora mai su una sola posizione lavorativa alla volta ma lavora su più posizioni su più offerte di lavoro contemporaneamente per ogni offerta di lavoro riceve diciamo centinaia teniamo questo come numero ipotetico di curriculum torno alla domanda che ho ricevuto prima rispetto alle competenze e per ribadire questo concetto sicuramente un curriculum graficamente gradevole intanto non viene scartato mettiamola così andiamo nell'ordine in cui le cose possono succedere intanto è essere letti cioè la prima cosa importante è essere letti dal recruiter ovvero aver scritto le informazioni in maniera precisa puntuale ordinata corretta e per corretta intendo anche in italiano cioè nella lingua in cui sto scrivendo ovviamente poi in inglese se il curriculum è in inglese corretta poi è ovvio che le competenze ovvero la corrispondenza delle competenze tra chi si candida e il tipo di job description che io ho è fondamentale quindi non è tanto un fatto di fare colpo sul recruiter sul recruiter magari posso fare colpo con le mie soft skills con la mia empatia con la mia capacità di relazione in un secondo momento quindi nella seconda fase della selezione in cui entro in contatto diretto con il recruiter ovvero mi chiamano però la prima cosa è passare diciamo il primo step di selezione il primo step di selezione sicuramente lo passo con le competenze tecniche con la capacità con l'esperienza che ho rispetto a quel ruolo ci sono dei ruoli in cui si richiede un minimo di 3-5 anni di esperienza e diciamo nella selezione chi non ce li ha diciamo parte diciamo con un con uno svantaggio poi è chiaro che può recuperare in un'altra maniera però diciamo la parte di soft skills viene valutata magari in una seconda fase diciamo è difficile veramente ripeto una domanda da un milione di dollari diciamo che se penso solo all'aspetto di primo impatto mettiamola così il primo impatto io sicuramente me lo gioco con la corrispondenza delle competenze rispetto alla job description e con una grafica e una impostazione diciamo del curriculum di buona qualità però sono onesta è una domanda da un milione di dollari ti faccio un'altra domanda che è simile ad una domanda fatta in precedenza e Diego chiede per rimanere nelle due pagine massimo è corretto rimuovere le esperienze di lavoro nei primi anni e avevi già risposto prima però la seconda parte della domanda si ricollega e chiede come si spiega il buco temporale è interessante è super interessante allora come vi dicevo all'inizio dicevo provate a fare una cronologia di tutte le vostre esperienze è chiaro che faccio il mio esempio perché non posso farne altri in questo momento io in questo momento diciamo sono professionalmente attiva da circa dieci anni e se dovessi inserire nel mio curriculum un vite tutte le esperienze di cui considerate tipo quattro anni da freelance in cui facevo lavoravo su più progetti contemporaneamente diciamo non avevo un datore di lavoro da inserire per esempio nel curriculum vite e lasciatemi passare il termine mansioni svolte durante quell'esperienza professionale se uno fa il freelance in quattro anni di lavoro può aver lavorato a 40 progetti per esempio è chiaro che lì a me non mi interessa scrivere tutti e 40 i progetti ma magari mi interessa scriverne tre che sono quelli più importanti più con clienti più significativi perché come dicevo a un certo punto prima il mio curriculum lo scrivo in corrispondenza dell'offerta di lavoro alla quale mi sto candidando quindi in base al chi è che sta aprendo quella posizione qual è il tipo di posizione aperta ovviamente mi interessa di più porre l'accento su alcune esperienze lavorative piuttosto che altre e quindi magari alcune cose le posso provate a immaginare di avere delle caselle sposto quelle caselle tolgo e metto in base a che cosa mi serve mettere di più in evidenza il buco temporale proviamo a evitare il buco di cinque anni in cui quando io lo leggo e mi arriva per la prima volta il curriculum non so chi sia la persona davanti a me è chiaro che se vede un buco diciamo di cinque anni mi viene mi sorge un dubbio del perché magari quella persona ha un buco lavorativo di cinque anni però magari non ce l'ha perché semplicemente non ha scritto l'esperienza in quei cinque anni è chiaro che è un lavoro molto di minuzioso molto di fino di stare attenti a più parametri quindi da una parte selezionare bene le offerte di lavoro da inserire cosa mettere cosa togliere quanto approfondire di una e quanto approfondire di un'altra evitando ovviamente appunto il rischio di far apparire un buco temporale che tra l'altro se non ce ne è anche stato mi sto tirando la zappa sui piedi da solo spero di aver risposto l'ultimissima domanda al volo prima di chiudere visto che sono le 12.58 e voglio una risposta al volo sul curriculum foto sì o foto no sì perché mi segnalano che ci sono comunque opinioni scollanti sul metterla non metterla per me sì Stefania Clemente dice sì per una questione di personal branding io dico sì poi è chiaro che non è obbligatorio la firma è obbligatoria la foto no io la preferisco perché nel leggere ho già davanti a me la persona di cui sto leggendo però non è obbligatorio ti dai un volto ad un profilo e per cui magari è anche più facile che chi sta leggendo il curriculum si ricordi di te in positivo e negativo ovviamente però sì sì no ripeto non c'è sì per forza no assolutamente come nella firma la firma è sì l'autorizzazione al trattamento dei dati è sì senza giri di parole nella foto diciamo dal mio punto di vista sì perfetto grazie mille siamo arrivati spaccati alle 13 per cui just in time ti voglio ringraziare per i contributi non so se vuoi lasciare al volo una slide con i tuoi contatti o dare i tuoi contatti eccola qui potete cercare www.comincenter.it oppure scrivermi se volete se avete domande a Stefania Chiocciola comincenter.com grazie a tutti grazie Michele grazie Stefano insomma andiamo avanti re esistiamo un abbraccio a tutti ovunque sia grazie a te state forti a presto ciao ciao